Qui in Multedo, Paolo Bonadio con la sua bimba che si chiama Greta, bellissimo nome, adesso facciamo il primo piano a papà, che se lo merita tutto perché ha segnato un quarto gol per la sua squadra con una bomba da fuori aria che si è stampata sull'interno della traversa e finita in rete. Sì, ogni tanto escono fuori i giochi dal cilindro, a parte tutto è importante vincere e dare un segnale di continuità a quello che stiamo facendo. Scherzavo col mister, lui dice che vi dovete salvare, avete 10 punti, siete primi da soli. Ci mancano 30 punti alla salvezza. 10 partite, praticamente 30 punti alla salvezza. Noi abbiamo iniziato con un profilo basso perché comunque la società non chiede nulla, sappiamo di far bene. Luca Varone, anche lui non capisce un cazzo. Però continuiamo a tenere il profilo basso e poi è ovvio che una volta raggiunto l'obiettivo principale, cioè mantenere la categoria, ci possiamo divertire, però la rosa è comunque competitiva. Oltretutto giocate molto bene in una parte del campo dove di solito non si vede così tanto a qualità nelle altre partite di dilettanti, cioè dalla centrocampo fino all'area avversaria. Ma noi proviamo tanto, proviamo tanto. Il mister ci picchia molto in settimana sulle fasi offensiva e diciamo che piano piano, a forza di conoscerci, perché comunque abbiamo tanti elementi nuovi, abbiamo cambiato molto, adesso i frutti iniziano a vedersi ed è divertente anche giocare in questo modo. Nel senso che comunque poi in campo si ci diverte. Bene, allora buon cammino per una tranquilla salvezza. Esatto, esatto. E alla prossima. Grazie, gentilissime, come state? Ciao.